Come si chiama quest'artista? Come si chiama? Aspetta, vedo pure. Quanta mia. Adelaide. È vero che sono tutti stranieri però. Adelaide. Buonasera. Che bella, è bella. Ma lei non è soltanto una grande artista, ma una grande cantante. Canta? Ma noi abbiamo partecipato a varie cose. Questo è un'ex salone di dicevartista. Le nostre avvenimenti.